Ciao ragazzi, bentornati in questo stesso video E se ragazzi, anche se il nuovo anno è già iniziato da 4 giorni Vi faccio i miei più sinceri auguri di buon 2023 Il nuovo anno è iniziato, l'ho mai già da 4 giorni Perché oggi, che registro questo video, primo video di questo nuovo anno 2023 Si tratta del 4 gennaio, quindi l'anno è già da 4 giorni Comunque, voi oltre stasera lo vedrete domani, comunque 5 gennaio Comunque, per iniziare il nuovo anno Voglio ritornare appunto a fare un video che ho portato proprio all'inizio dell'anno del 2021 Quindi un unboxing Ma oggi non facciamo un unboxing a queste idee che è a come portare già due anni fa nel 2021 Bensì, oggi faremo un unboxing di un set di profumelli, set di fragranze con un relativo diffusore E relative candeline per alimentare il diffusore E tre, pregio insieme insieme a voi Perciò benvenuti in questo nuovissimo unboxing set di fragranze prese da Action Buon 2023 Cominciamo il primo video dell'anno Ecco il soggetto del video Questo fantastico set in questione Che ora andiamo ad abbuzzare insieme Perché sono un'altra curiosa di aprire insieme a voi Invece non sto a coprire le novità che fanno i negozi Tema crato pazzoso, tema crante, temi che mi piacciono Insieme a voi perché appunto E' utile sia a me Che leggo per la prima volta E posso decretare Se ho fatto un acquisto proficuo Oppure se ho risolto inutilmente E' utile anche a voi Perché almeno se dovete Pensare a qualche regalo O se siete interessati ai prodotti Che trattano i video in questione Potete avere qualche informazione in più Che potete creterà a giudizio Al fine di comprare l'oggetto Verrà decreto da voi all'inizio Se l'oggetto vale oppure no Quindi è una cosa molto utile anche per voi E non solo per me e per voi Quindi cominciamo questo unboxing Sono stra curioso Apriamo Ecco qua il mio bel taglio di unboxing Ok Si Non si è aperto Quanto vedevo Adesso però Unboxiamo molto contenuto insieme Allora Il set contiene Il diffusore In ceramica Dalla quale qua si mette la candelina E qua La fraganza E con il colore Il calore Fa bollire la fraganza Di farci Noi di fondere Tutta quanta Nella stanza Abbiamo le due candeline Che appunto Vanno ad alimentare Il diffusore E riscaldare la fraganza Per poi diffondere La fine Nella stanza In tutta la stanza E poi La cosa più bella ragazzi Tutte e quante Le dolci Fraganze Che il set Vi da in notazione Ma comunque Se vi interessa Hanno anche set Che costano 98 centesimi Da tre pezzi Però io volevo Un set completo Primo Prezzo Sopra voi Secondo Perché Vuole più Fraganze Poi Io ragazzi Vi Vi dico già Che adoro La fraganza Di action Perché le comprai Già ai tempi Quando inaugurò L'action Di Caramagnola Bionice di Torino Prima Questo che pesce Sono appunto Queste fraganze qua E Le recensi Già in passato Nel primo Aulo di action Anzi Nel secondo Aulo di action Che pesce A maggio 2021 Nella portola Nuova action Compargerò Queste Pronto qua Queste fraganze Però il set da 6 Adesso Non abbiamo messo Un sacco di nuove Però nel set da 3 Non ci avevamo Usavamo solo Quelle vecchie Perciò Vogliamo prendere Il set completo Per procurarmi Anche le fraganze nuove Quindi adesso Andremo a vedere Una per una Le fraganze nuove Di questo bellissimo set Allora Abbiamo La rosa Rosa rossa Rosa bianca E rosa viola Abbiamo la lavanda Abbiamo La gardenia Bellissima pianta Molto profumata Che non è La profuma di aga Puglia chiuso Poi abbiamo Il cherry blossom Fiore di ciliegio Sembra Peritosa Abbiamo La jasmina Che questa qua Sarà molto Succulenta E buona Sì Succulenta È un piacetivo Adatto Sarà molto Mi sfida molto La jasmina Poi abbiamo Il limongrass L'erba Al limone Il passion fruit Anzi Qua Poi c'è Passion fruit Però Da adesso Io vedo Frutti di bosco Frutti rossi Quindi perciò Sia brutti rossi Non è il passion fruit Poi le spice Spezie La peonia La peonia Ovviamente bellissime È vero Durano niente Però la cosa più positiva È che Ne avete tante Quindi ci avete Tante Tanto tempo Ogni volta Potete Usarne una E se Le usate Modalatamente Una fraganza Vi durò anche Una settimana Se invece Le usate Non modalatamente C'è molto spesso Probabilmente La fraganza Vi dura Un giorno O due Però La buonatizia È che ne avete Molte altre Ne avete Viene undici Poi dieci Poi nove Poi otto Poi siete Poi cinque Poi quattro Poi tre Poi due Poi uno Fino a che Non si esauriscono E se si esauriscono Da action Hanno il set Da 3 A 98 centesimi Quelli hanno sempre Con solo tre Fraganze Che vanno Un pochino In base alla stagione Sono un po' miste Però sono sempre Fisse Quindi Io volevo Appunto questo set Per prendere Appunto tutte Quante Le fraganze Della collezione Che c'è adesso E Per poi vedere Se appunto Ne metteranno Alte Se metteranno Alte Prendono anche Altre nuove Perché La cosa più Mi piace È che sono La comunità giusta La comunità giusta Per questi Diffusori qua E quelli Che ho anche io A casa Non quelle Stacchette Quelle appunto A candela E sono Per ragazzi Molto moderate Come Troppo elevate Ma nemmeno Troppo decadenti Quindi Moderate Concrete Sono veramente Cheanissime Adesso Le faccio Vedere Più da vicino La botticetta Mi piace Trovamente Un casino Piccola Bella E tra l'altro Di vetro Quindi pure Utilizzabili Quindi bravo C'è anche Per favore Ambiente Quindi questo qua È anche Un set Totalmente Green A parte La ceramica La ceramica Si ricava anche Da materie Vive naturali C'è Dall'argilla Materia naturale Quindi È un set Totalmente Green Diffusore E perfino La confezione Delle fragranze Che il caduto Delle fragranze È chimico Quindi non è tanto Green Però non sono Alcuni piccoli elementi Della pianta In generale Ma La cosa bella Ragazzi È che questo piccolo Botecetto Non è in plastica Quindi non Inquiliamo L'ambiente Quindi facciamo Bene Quindi Greenpeace È a favore E quindi In piena terra È a favore Quindi Sì Sono riuscita Troppi E quindi Dicevo Abbiamo Anche Delle botecette Green Che non sono Di plastica Perché la plastica Dobbiamo eliminare Il più possibile Ma sono di vetro Invece Vetro È È una cosa Molto green Quindi È un bene Che Cominciamo a utilizzare Più botecette Di vetro E E Mettiamo la parte Di plastica Perché appunto Facciamo favore L'ambiente Quindi Sono contento Anche che Da punto di vista Green Questo set Su l'approvato Botecette di vetro Si possono Ovviamente Subito Utilizzare Una volta Pite le fragranze Magari Permetteci Le fragranze Chi lo sa Io comunque Le utilizzerò E vi invito Anche voi A farlo Perché almeno Così Rimettere in moto La catena Del riciclo Poi abbiamo Anche le candeline Ve ne offrono Due nel set Ma comunque Cioè Nei negozi Le trovate benissimo La previa Che costano Meno di 30 Ad esempio E Vengono dolci pezzi O L'IKEA costano 32,50 Ne prendete Tanta pezzi Comunque Questi qua Sono le previa Abbastanza ovunque E poi Io faccio Ovviamente Anche gli aule In cui abbiamo Storre delle candele Che acquisto E molte volte Questo anche Set piccoli Delle candele Cosiddette Delight Quindi sapete Nessuno Dove trovarle Entra ragazzi Che dirvi Spero che questo Prima Mi sia piaciuto Spero che questo Unboxing Mi sia piaciuto Spero che il contenuto Di questo Unboxing Mi sia piaciuto E Nei commenti Cosa pensate Di questo Mega Fantastico Set Di Fraganze Di questo Fantastico Contenuto Di questa Fantastica Usia Sostanza Come direbbe anche Aristotele Che mi sembra Molto molto Proficua Guardate che meraviglia Ragazzi 12 piccole Fraganze Con tubicini In vetro E gusti Variapinti Un diffusore Quindi se non ce l'avete Vi ho affetto Quanto Il set E due candele Per iniziale Tutto questo Bendio Alla modo La cifra Di 5,95 Che per un set Così Fidate che È un prezzo Veramente ottimo Certi Altri negozi Se voglio fare nomi Comunque Vi ho affordo Questo set A 12 13 Ma anche 20 euro Quindi 5,95 È un set Ottimo Per Fiat Che la qualità Di action È buona Cioè Io dico Un po' mediocre Ma comunque buona Non buonissima Perché considerata Di un negozio Olandese A qualità Che trovi D'Arce Nei prodotti È buona Abbastanza mediocre Quindi Approvata Quindi Questo set È super mega Approvato Per vedere Come dire Cosa ne pensate Se vi piacciono Queste fragranze E poi La fragranza Che più vi incolosisce A me ce ne sono Tantissime Che mi incolosiscono Tipo Il limongrass Tipo Sandalwood Tipo Il frutto di bosco Vabbè Che classica Ma comunque C'è lo stesso Tipo la perona Eccetera Eccetera Per sprecare nei commenti Quella fragranza Che più vi incolosisce Se vi piace Se vi piace questo set Se lo comprate Se vi sono state utili Se vi piace questo prodotto Se vi è stato anche utile A mostrarvelo Se vi piace questa recensione Tutto I commenti E niente Da P&P è tutto Vi auguro Un buon anno Domenica Che sia un anno Di pace E serenità E E appunto Un anno Positivo In generale Quindi Niente Da P&P è tutto Buon domenica A tutti Ci vediamo Nel prossimo E in questo Soprante video Di questo nuovo anno Ragazzi Per il primo Il video di l'anno È tutto Se vi è piaciuto Se vi è piaciuto Di mettete il like E se vi è tenale E noi ci becchiamo Nel prossimo In questo Soprante video Da raga